L'andamento è consolidato, migliorano i dati della pandemia, nonostante i nuovi 19.000 positivi, 3.000 tra Padova e provincia. A prevalere in tutta la regione è la variante Omicron, come confermano i dati diffusi dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ha esaminato il genoma completo dei 179 campioni inviati da 13 laboratori della regione a Legnaro. La variante prevale sul 95,5% di questi 171 su 179 analizzati. Il restante 4,5% appartiene alla variante Delta. Un sorpasso netto se si pensa che solo due settimane prima la variante Omicron, pur prevalente, era al 66%. Equa la distribuzione tra le province, a Padova e Verona, la Omicron è al 100%, scende al 97%, a Vicenza, Belluno, e al 94%, Venezia, 93%, Treviso, 89%, ultima, Rovigo, con l'85% di Omicron. Grazie. 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 Grazie a tutti.